l'eurovision 2022 che sarà ospitato in italia non è ancora iniziato e già saltano fuori le prime indiscrezioni a quanto pare ci sarebbero delle incomprensioni da smussare tra due dei tre personaggi scelti per condurre l'evento laura pausini e alessandro questi insieme a mica presenteranno l'evento internazionale che si terrà al pala olimpico di torino dal 10 al 14 maggio 2022 ecco cosa starebbe succedendo durante la seconda serata del festival di sanremo 2022 andata in onda ieri 2 febbraio 2022 amadeus ha annunciato ufficialmente i nomi dei conduttori di eurovision 2022 mica alessandro cattelane laura pausi i tre presenti al teatro ariston al momento dell'annuncio hanno dimostrato di essere felicissimi di aver ricevuto questo importante incarico e soprattutto di essere molto affiatati tra loro secondo il settimanale oggi però non sarebbe tutto rose e fiori a quanto pare ci sarebbero vere e proprie scintille tra quelle che oggi chiama due prime donne cattelane la pausini secondo questo spiffero il conduttore 41 n la cantante 47 n starebbero letteralmente sgomitando per avere una presenza maggiore sul palco le tensioni tra i due sarebbero acuite in quanto i ritmi dello show sarebbero molto serrati ciò non permetterebbe ai due artisti di dare il proprio apporto allo spettacolo quanto vorrebbero ovviamente si tratta di indiscrezioni da prendere con le pinze nessuno dei diretti interessati ha in qualche modo confermato queste voci anzi i tre sembrano entusiasti di intraprendere questa nuova avventura che avrà inizio tra esattamente 100 o magari il trio potrebbe avere mascherato i problemi in corso e aver finto di essere in perfetta sintonia per ora queste sono solo ipotesi che lasciano il tempo che trovano l'annuncio ufficiale della loro conduzione della kermesse è arrivato subito dopo l'esibizione della cantante romagnola che ha presentato il suo nuovo singolo scatola scritto con madame al termine dell'esecuzione del brano sono entrati in scena il cantante di origini libanesi e il conduttore di tortona nascosto in mezzo ai musicisti dell'orchestra dopo la loro apparizione a sanremo i tre hanno pubblicato varie foto e video sui loro social dimostrandosi grati per essere stati scelti per ricoprire questo ruolo si tratta quindi di voci infondate o ci sono semplici incomprensioni che verranno agilmente superate staremo a vedere